A Pesaro l'ex Cruiser rinasce in Charlie Urban Hotel. A Pesaro l'ex Cruiser rinasce in Charlie Urban Hotel. Benvenuti al nostro telegiornale di oggi. Oggi è giovedì 13 luglio. Apriamo questa edizione occupandoci della visita nelle marche del ministro della protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha fatto tappa a Senigallia e Pesaro. Per fare il punto sugli alluvioni con gli amministratori colpiti dalle calamità di settembre e dello scorso maggio. Dopo la fase d'emergenza si tenta dunque di passare a quella di ricostruzione e ripristino dei danni. Vediamo il servizio. Prima a Senigallia, poi a Pesaro. Dall'alluvione di settembre a quella di maggio, il ministro alla protezione civile Nello Musumeci ha incontrato sindaci e delegazioni amministrative ferite dai danni delle due calamità naturali abbattutesi nelle marche negli ultimi dieci mesi. In entrambe le riunioni Musumeci ha cercato di rassicurare alle realtà marchigiane circa l'intenzione alla ricostruzione post-alluvionale da parte del governo. Non più con la politica dei rattoppi, ma con un piano strutturato e duraturo. Allo stesso tempo ha avviato il ragionamento sull'ipotesi di un fondo per le ricostruzioni a fronte di emergenze purtroppo sempre più frequenti. Mi permetto di dire tre riunioni importanti, perché stamattina abbiamo ottenuto un vertice tecnico con i riferimenti più importanti sul territorio e abbiamo individuato, dopo aver ascoltato gli amministratori locali, quali sono le criticità. La voglia di fare presto e di fare bene, la voglia di dare risposte concrete alle famiglie e alle imprese che hanno subito danni. Mi sono permesso di condividere assieme a questa impostazione la necessità di ricostruire in fretta, ma ricostruire per evitare di dover riproporre le vulnerabilità, le fragilità del passato. Non basta ricostruire presto, ma bisogna anche ricostruire meglio con uno studio attento del territorio, sapendo che il rischio zero non esiste, ma che possiamo in una seria prevenzione strutturale ridurre la portata del rischio in un territorio che come la storia anche recente ci insegna è particolarmente vulnerabile. Ma c'è grande buona volontà, i sindaci, i presidenti di provincia, la regione che ha voluto questi appuntamenti e il governo nazionale. Se facciamo rete, se una volta tanto mettiamo da parte le polemiche e lavoriamo per il diritto alla sicurezza, che è prioritario e fisiologico, io sono convinto che le risposte arriveranno. A Pesaro Musumi ci è arrivato accompagnato dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, e da Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell'Economia. Ad accoglielo il vice sindaco Daniele Vimini in una sala del Consiglio Comunale, gremita di sindaci dei comuni feriti dall'alluvione di maggio, da assessori e consiglieri regionali, così come dai vertici delle forze dell'ordine provinciali, prefetto compreso. La fase della progettazione delle opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, è la fase della ricostruzione delle infrastrutture, è la fase della ricognizione definitiva per i ristori delle famiglie e delle imprese più colpite. Una fase che sta procedendo speditamente, oggettivamente la burocrazia è tantissima, però contiamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di velocizzare un'azione che a noi sta molto a cuore, perché vogliamo non solo mettere in sicurezza questi territori e dare delle risposte più efficaci possibili, ma soprattutto farlo nei tempi migliori possibili. Acquaroli, in veste di subcommissario per la ricostruzione di entrambe le alluvioni, ha lasciato intendere che si cercherà di ragionare su percorsi differenti. Prima alluvione nella nostra regione ha avuto un impatto devastante, come abbiamo potuto raccontare e vedere nei mesi scorsi, e la fase che è stata molto faticosa di soprattutto raccolta delle informazioni e della ricognizione che poi presuppone alla distribuzione dei 5.000 e 20.000 euro per le famiglie e per le imprese, la progettazione e tutto quel lavoro fatto per la somma urgenza e la messa in sicurezza immediata dei fiumi e delle infrastrutture danneggiate. E tutto il lavoro svolto noi non lo vorremmo perdere in un contenitore molto più vasto. Quindi per quello che ci concerne vorremmo continuare a lavorare speditamente sull'alluvione del settembre 2022 e stare chiaramente nel gruppo per l'alluvione della primavera del 2023. E come vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi attraverso un'intervista al prefetto Emanuela Saveria Greco, anche la provincia di Pesar Urbino si sta attrezzando per accogliere migranti soccorsi durante i sempre più frequenti sbarchi nel Mediterraneo. A tal proposito è attesa per domenica sera nel porto di Ancona la nave umanitaria Humanity con 200 migranti a bordo che saranno distribuiti alle diverse prefetture marchigiane per la gestione della prima accoglienza. Ed ora cambiamo argomento, andiamo a parlare di un'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto le manovre illecite di un avvocato di Urbino che si appropriava indebitamente di denaro dai conti correnti dei suoi assistiti. Un avvocato del Tribunale di Urbino incaricato di essere anche amministratore di sostegno di diversi portatori di disabilità è stato accusato di essersi appropriato indebitamente di 135 mila euro prelevati in diverse fasi dai conti bancari dei propri assistiti. Conti ai quali poteva accedere in quanto incaricato a provvedere delle necessità di propri assistiti gravati da infermità fisiche e psichiche. La Guardia di Finanza di Urbino ha portato avanti le investigazioni tramite accertamenti bancari e rintracciando testimonianze che hanno suffragato l'accusa di peculato. A quanto si è scoperto, l'avvocato era solito fare prelievi di denaro dai conti correnti e dai depositi postali degli amministrati all'insaputa di questi ultimi e senza un'adeguata rendicontazione negli atti depositati presso il giudice tutelare. Giudice che era quindi impossibilitato a vigilare sull'attività. La Procura della Repubblica di Urbino condividendo l'impianto accusatorio delle fiamme gialle ha chiesto e ottenuto dal GIP il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato pari all'ammontare delle somme prelevate. È stato così posto sotto sequestro un immobile di proprietà del professionista del valore equivalente di 135 mila euro. Dopo il caso di incendio di ieri alla base del ponte Brigata Ebraica di Pesaro provocato da cataste di legname incastonato dopo la piena di maggio provocata dall'alluvione ci è arrivata una segnalazione da parte di una telespettatrice che ci ha riportato la presenza di analoghi tronchi ingombranti ai piedi del ponte all'altezza della chiusa di Ginestreto. Vediamo. La sfida deve essere quella di mettere in sicurezza il territorio perché eventi come l'alluvione di maggio che ha colpito Romagna e nord delle Marche ormai non sono più casi eccezionali. Il ministro Musumeci ha ribadito questo concetto nella sua visita di ieri a Pesaro davanti agli amministratori locali proponendo un cambio di approccio di fronte alle calamità naturali. All'interno della pianificazione alla quale ha fatto riferimento rientra anche la manutenzione dei fiumi. Buona pratica però spesso viene dimenticata. Come i quintali di legname trasportati dalla fiumana dell'alluvione di maggio rimasti intrappolati alla base del ponte brigata ebraica che mercoledì 12 luglio hanno preso fuoco per cause ancora da accertare. Come anche le cataste di legname che dopo la piena di due mesi fa si ritrovano ancora depositate ai piedi del ponte della chiusa di Ginestreto zona diacente al paese di Borgo Santa Maria. Arbusti e tronchi arenati e che di fronte ad un'intemperia simile a quella di maggio potrebbero rappresentare più di un campanello d'allarme. A segnalare la loro presenza una nostra telespettatrice che passando di lì quotidianamente non ha potuto non riportare la sua preoccupazione. Qui alla chiusa di Ginestreto io ho notato questi alberi proprio sotto la campata del ponte dall'alluvione di maggio proprio una campata quasi totalmente chiusa quindi il rischio di adesso piogge torrenziali come siamo abituati ormai a vedere è un attimo che si può allagare tutta la zona industriale anche il paese vicino la parte sotto diciamo a valle del ponte comunque è sempre stata una giungla nel senso che quasi il fiume non si vede più perché è completamente coperto da alberi arbusti e quant'altro se si potesse evitare un'alluvione ulteriore sarebbe meglio una folta vegetazione e una scarsa manutenzione che potrebbe rappresentare un duplice problema quello di poter provocare l'ingrossamento del fiume in caso di alluvione ma anche quello di essere il principale alleato di un incendio viste le calde temperature di questi giorni e poi qui come poi si vede bene qui è tutte piante tutto verde orti quindi è tutto infiammabile quindi basta un niente che può diventare un problema veramente serio sì a Pian del Bruscoro sono in corso i lavori di rifacimento dell'asfalto di un tratto della pista ciclopedonale che termina all'altezza dell'incrocio con strada Re dei Gatti di Montecchio operazioni che si dovrebbero concludere entro venerdì 14 luglio come avevamo riportato in un nostro servizio andato in onda i giorni scorsi in risposta a diverse lamentele di alcuni cittadini sul ritardo dei lavori visto lo stato impraticabile in cui versava la pista ciclopedonale ritardi nei lavori motivati dal fatto che la ditta paltatrice con sede a Faenza ha dovuto gestire le criticità impreviste legate ai danni provocati dall'alluvione in Emilia Romagna ed ora andiamo a conoscere il Charlie in Pesaro Urban Hotel l'albergo all'angolo fra Viale Trieste e Viale Marconi è rinato da un mese voltando pagina sulla precedente gestione dell'hotel Cruiser dopo Excelsior e Nautilus si tratta della terza struttura pesarese di proprietà della Limberg Hotels di Nardo Filippetti si inaugura oggi l'Urban Hotel Charlie un luogo che è molto amato dai pesaresi un nuovo hotel completamente tutto ristrutturato quale sarà Nardo Filippetti il target di riferimento chi verrà in questo hotel prevalentemente business travel diciamo così ecco perché è urban soprattutto durante l'inverno ed estate e i tre mesi estivi saranno leisure quindi vacanze famiglie come abbiamo fatto il Nautilus questo business è leisure questo blazer cosiddetto perché risponde a più target ed onestamente è un albergo tutto rifatto il mood che abbiamo dato rispecchia un po' un po' di cose di internazionalità poi vedremo come si posizionerà sul mercato speriamo che possa essere apprezzato soprattutto dalla città dai locali perché vuole essere un albergo aperto un po' a tutti aperto a tutti quindi ai turisti anche ai cittadini i cittadini potranno usufruire degli spazi come ad esempio quello in cui ci troviamo sì assolutamente è fatto proprio per loro soprattutto anche di sotto diciamo così all'ingresso abbiamo delle aree di co-working abbiamo il botaniche che è collegato chiaramente con il Charlie e abbiamo cambiato nome a tutti e due però è un po' farlo vivere alla città ecco un luogo di incontri un luogo per passare un po' di tempo per questi millennial diciamo questi millennial che amano un po' lavorare con i loro computer in ogni angolo è tutto y-free e di conseguenza soprattutto in una città come Pesaro non lontano questo albergo dal centro è vicino a quello che sarà il nuovo Palas Cavolini penso che possa essere di congiunzione fra il mare e il centro il cruiser ex cruiser allora era una struttura abbastanza attempata quali sono stati i lavori più importanti quando ecco avete pianificato la ristrutturazione sì diciamo che la struttura già come albergo aveva degli spazi generosi quindi non l'abbiamo assolutamente stravolta l'abbiamo però dovuta completamente riqualificare perché chiaramente come diceva lei era una struttura che aveva un po' di anni addosso diciamo così quindi è stato prima un lavoro proprio di strip out di togliere completamente tutto quello che era stato fatto negli anni poi l'abbiamo riqualificata totalmente in alcune parti in maniera un po' più pesante come il giardino la terrazza che vedremo dopo in altre parti invece meno perché avevano meno bisogno come per esempio lo spazio in cui ci troviamo che era già uno spazio moderno che abbiamo solo riqualificato i lavori più grandi sono stati soprattutto nell'impiantistica nell'opera dell'insonnerizzazione cartongessi nella riqualificazione energetica con un importante impianto fotovoltaico poi che sull'impianto domotico per le camere e soprattutto i bagni tutti i servizi un nuovo hotel che fa parte dei Limberg Hotel c'è già in previsione un altro hotel a Pesa a Pesaro Nardo Scusate per carità penso che abbiamo fatto con tutto rispetto una sciocchezza adesso una sciocchezza no perché è un bel immobile perché è iconico adesso sta diventando e nel centro della città è un investimento importante che no pesano onestamente già tre sono più che sufficienti in occasione dell'evento inaugurale Nardo Filippetti ai nostri microfoni ha anche ribadito la sua personale ricetta per un turismo pesarese più attrattivo e funzionale in occasione della inaugurazione del Charlie in Pesaro Urban Hotel Nardo Filippetti presidente del gruppo Limberg con la riqualificazione dell'ex cruiser è salito a quota tra i grandi alberghi in città ha ribadito la direzione che deve prendere il turismo pesarese già esternata in tempi recenti investire sul comunicare Pesaro all'esterno e puntare su un'identità chiara è una città con tante potenzialità turistiche oggi però se andiamo su internet e digitiamo destinazione turistica Pesaro non appare mai fatelo voi con i vostri internet aiutiamo la ricerca Pesaro destinazione turistica balneare non appare mai allora secondo uno che cerca un luogo per andare in vacanza Pesaro non è città turistica allora sta a noi cercare di farla conoscere l'Italia abbiamo di tutto e tutti ci cercano e non si sa dove andare e tutti propongono tutto noi dovremmo cominciare a proporre una cosa però adesso questo qui sarà un discorso che faremo con il comune noi comunque ci muoviamo perché abbiamo stanziato un budget importante per la comunicazione e il marketing per far capire che non si può pensare di fare una destinazione con l'albergo quindi noi investiremo molto sulla comunicazione nel territorio perché gente che va in vacanza o che si muove anche per affari vanno in un posto perché c'è qualcosa che gli risponde poi potranno andare in un albergo a una stella a otto stelle poi una volta che sono qui certamente sceglieranno loro ma i clienti devono scegliere ma soprattutto far sapere che esiste una destinazione bella come la nostra un tema di identità di turismo al centro anche della recente conferenza stampa delle categorie alberghiere ospitata proprio all'hotel Charlie che chiedeva maggiori controlli su una movida che talvolta rischia di uscire dai regolamenti è una cittadina è una cittadina così piccola e con un numero di camere così limitato che potrebbe essere una bomboniera e non si può pensare di avere turismo di massa non l'abbiamo mai cercato né noi albergatori né comunque la destinazione ha sempre pensato di rivolgersi ad un target di clientela diverso famiglie tranquille magari anche persone agee diciamo piuttosto che non anziani perché anche il concetto di anziani dei gruppi che c'erano una volta sta molto cambiando ci sono anziani che desiderano avere un buon servizio un buon prodotto una buona qualità capito non con dei prezzi assurdi eccezionali ma comunque un minimo e sono disposti anche per la loro vacanza che si fanno all'anno minima che cominciano a fare anche 3 o 4 di vacanze questi anziani quindi è un target di riferimento molto importante abbiamo chiesto di poter emettere un po' più di controlli pensare che si possono avere la musica fino a luna alle 2 di notte sotto un albergo dove ci sono famiglie e persone che esitano riposarsi poi noi come abbiamo detto non scegliamo noi posizioniamo il albergo e lo indirizziamo ad una domanda di un certo tipo di clientela in funzione di quella che è la strategia se qui volessimo fare tutte le discoteche io non ho problema vado a cercare tutti quelli che vanno a ballare nelle discoteche se vogliamo gli anziani vado a cercare gli anziani poi ci sono anziani da livello 1 e da livello 10 l'importante è che però tutto quanto insieme così concentrato in 400 metri 500 metri non è accettabile per la mia visione una visione personale sostenuta da investimenti sostanziosi nel turismo della città noi abbiamo investito più di 70 milioni di cui 20 solo nel nuovo Charlie e lei capisce che io non ho alternativa non ho scelta lei come cittadino può scegliere di vivere in un posto o in un altro io come impreso una volta che ho posizionato qui gran parte dei soldi o degli investimenti che abbiamo fatto questi non sono spostabili quindi non ho scelta dobbiamo andare avanti per forza e mi batterò con tutto me stesso con tutte le forze sia fisiche che economiche per far sì che questa diventi una gestionazione nota C'è un'importante fetta di cittadini di Monte Labate che da mesi ha creato un comitato per sensibilizzare ai benefici che porterebbe un'eventuale fusione con il vicino comune di Vallefoglia benefici che sono stati illustrati ieri in un'assemblea cittadina alla presenza dello stesso sindaco di Vallefoglia Palmirucchielli C'è una significativa fetta della cittadinanza di Monte Labate che da mesi ammicca alla fusione del proprio comune con la vicina Vallefoglia A inizio 2023 è nato un comitato a favore dell'unione amministrativa che ha avviato una campagna di sensibilizzazione sfociata prima in una raccolta firme e che mercoledì sera è stata sostenuta da un appuntamento illustrativo in merito ai benefici di un'eventuale fusione tenutasi nella sala consigliare di Monte Labate Molte delle persone incontrate si sono dichiarate favorevoli al percorso di fusione abbiamo deciso di andare avanti nel progetto e da oggi sono state raccolte circa 700 firme questo perché crediamo che la fusione porti notevoli benefici alla nostra comunità per illustrare gli effetti positivi della fusione il comitato ha ospitato la relazione di Palmirucchielli che ormai un decennio fa fu protagonista fondante della nascita di Vallefoglia attraverso l'unione dei comuni di Sant'Angelo Lizzola e di Colbordolo i risultati sono più che evidenti sono oltre 15 milioni di investimenti in circa nove anni che sono direbbe mia povera suocera circa 30 miliardi di vecchie lire per i cittadini di Vallefoglia e quindi chi non ha fatto le fusione non ha avuto questa opportunità quindi anche i comuni confinanti non hanno avuto questa possibilità Ucchielli ha illustrato come l'unione amministrativa sia stata proficua in termini di investimenti e nuove opere a sostegno del comune allargato Abbiamo fatto il comune nuovo la piazza nuova inaugureremo il teatro Giovanni Santi di Bottega di Vallefoglia che varrà anche per i cittadini di Montalabate come vale per il depuratore che è a Montecchio che vale anche per Montalabate come vale il nido di Pian del Bruscolo con 120 più 60 posti che vale anche per i 15 ragazzi di Montalabate quindi poi essendo un po' fortunati abbiamo anche un milione e 4 per i prossimi 5 anni chiunque governerà il comune di Vallefoglia avrà un milione e 400 mila euro per altri 5 anni quindi circa 25 milioni di euro fra contributi dello Stato e contributi regionali che se non avessimo fatto le fuggioni i cittadini non avrebbero avuto quindi mi pare che sia una iniziativa molto importante quindi io ringrazio di questo invito che ci dà l'opportunità di spiegare quali sono gli effetti positivi di una fusione oppure no attorno alle 22.30 di ieri sera si è registrato un blackout localizzato nelle zone più frequentate di Pesaro come lungomare centro storico l'immagine in questione si riferisce alla ruota panoramica alla palla di pomodoro dove c'è chi si è ritrovato per 5 minuti in apprensione sospeso al buio a 35 metri d'altezza il blackout durato appunto 5 minuti è stato presumibilmente dovuto all'eccessivo consumo di energia derivato dai tanti impianti di climatizzazione attivati per contrastare l'afa di questi giorni il progetto per il riallestimento del museo archeologico Oliveriano firmato da Start è rientrato nella selezione speciale del premio italiano di architettura 2023 si tratta di un prestigioso riconoscimento promosso dalla fondazione la triennale di Milano e dal museo nazionale delle arti del ventunesimo secolo questa mattina a Milano si è svolta la cerimonia di premiazione e l'avvio della mostra che vedrà esposto fino al 24 settembre il progetto dell'Oliveriano ed ora vi segnaliamo un appuntamento che andrà in scena sabato sera a Bagnagata di Pesaro alle 20 e 30 nello stabilimento balneare di Sottomonte ci sarà la sfilata di moda un pezzo di Cuba allestita dalla stilista Madame Leblanc che presenterà la sua collezione di abiti estivi dal sapore latinoamericano un appuntamento che sarà seguito dalle telecamere di Rossini TV parliamo ora di sport mostrandovi questa che è la prima immagine della Vis Pesaro 2023-2024 questa mattina allo stadio Benelli infatti la squadra bianco-rossa si è radunata per il via alla preparazione del suo sesto campionato consecutivo in serie C a disposizione del confermato tecnico Simone Banchieri un primo gruppo di 25 giocatori dal 22 al 29 luglio la Vis si sposterà in ritiro in Trentino nella località di San Lorenzo d'Orsino e concludiamo il nostro telegiornale con lo sportivo pesarese più noto in assoluto il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi che ieri sera nella sua tavuglia ha tagliato il nastro all'opera a lui dedicata dall'artista Ettore Gambioli inaugurazione alla presenza della sindaca Francesca Paolucci e di una delegazione del gruppo Renco che ha contribuito alla realizzazione della scultura Gambioli artista Cagliese ha realizzato un mosaico di 500 tessere colorate di ceramica che formano la sagoma del dottore in sella ad una moto in curva in uno dei tanti circuiti affrontati in carriera l'opera di dieci quintali poggia su un supporto di marmo e ha una cornice in metallo che valorizza le colline del territorio creando uno sfondo naturale alla scultura e allora davvero complimenti a Valentino Rossi e all'amministrazione comunale di Tavuglia per questo bel monumento dedicato al grande campione questa sera vi consigliamo di restare ancora con noi sul canale 80 Rossini TV perché avrete la possibilità di rivedere questo format Master Fish la prima edizione il pesce va in onda un contest culinario con sfide e piatti a base di pesce che vedrà protagonisti i ristoranti del territorio vi aspettiamo quindi alle 21 e 20 domani invece torna la nostra consueta rassegna stampa quindi in diretta alle 7 e 20 sul canale 80 sulla nostra pagina facebook e anche sul nostro sito internet grazie come sempre per averci seguito adesso per voi il meteo buona serata grazie a tutti grazie a tutti